Assolutamente sì, ne è consapevole anche Fabio Cannavaro con i suoi calciatori, ci sta ascoltando, vado nuovamente dal Ciro Vigorito dove Fabio Cannavaro è in compagnia della nostra Sonia Lantella, a voi. Eh sì, hai detto bene Pasquale, ci ha raggiunto Fabio Cannavaro, ti giro subito un quesito, una domanda che io mi sono posta anche in trasmissione, guardando i due volti di questo Benevento, il primo tempo e il secondo tempo. Meglio nel secondo tempo una squadra più stanca ma con qualità o mettere dentro giocatori magari più pronti fisicamente ma più inesperti? La ricetta non c'è, la ricetta non c'è e c'è il rammarico che comunque dopo un primo tempo del genere non riesce a portare una partita a casa, tre punti a casa. Perché pur giocando contro una squadra forte come la Ternana l'è dominata, sia sotto il punto di vista del palleggio, sotto il punto di vista fisico fino a un certo punto. Poi quello che ho visto è stato un calo di tensione, è questo che mi ha dato fastidio perché abbiamo preso delle situazioni dove non è l'aspetto fisico, è l'aspetto la testa, la concentrazione, la voglia di vincere. È quello che un po' mi lascia perplesso, è una squadra che sa che sta vivendo un momento difficile. Luca Reilly ha detto che al primo tempo abbiamo sofferto la capacità di alcuni calciatori in campo di palleggiare, magari in riferimento anche a Pasquale Schiattarella che in questo è un maestro. Però ha detto che sapendo che il Benevento sarebbe crollato fisicamente nei minuti finali perché è un problema che si porta dietro, mi sono risparmiato dei giocatori più veloci per buttarli nella mischia proprio nel finale. E' questa anche una chiave di lettura o effettivamente solo una questione psicologica di questo Benevento? Sicuramente loro hanno fatto le loro strategie ma ti rimporta forse il gol del 3-2 ma è venuto sempre da una situazione di palla da fermo. L'aspetto fisico non è che deve essere una scusante per nessuno. Noi dobbiamo sapere che anche con mezza gamba questa partita la devi portare a casa. Perché è lì che fa la differenza. Una partita che vinci 2-0, chiunque va in campo deve sapere che deve dare qualcosa in più per portare a casa questa partita. Sicuramente alcune sostituzioni a volte ti danno e altre magari no ma come ho detto la gestione di questa squadra in questo momento deve essere così. Perché ecco non possiamo rischiare di perdere i giocatori. Pasquale io l'ho fatto uscire che sicuramente è stata un'uscita importante ma è venuto in panchina e mi ha detto il mister non ce la facevo più grazie e allora capisci che la gestione deve essere questa. Però chi rimane in campo non può avere dei cali di concentrazione, non può avere dei cali di voglia di portare a casa questa partita. Come io ho detto più arriva la stanchezza e più deve aumentare la concentrazione. Perché è normale, più devo essere concentrato e cattivo e dire no dobbiamo dare di più per fare i tre punti. Perché poi alla fine la differenza è quella. Il rammarico è che dopo che è fatto una buona partita va a casa con zero punti. Allora il quesito è giocare bene e perdere, giocare male e vincere. No ma mi fa piacere tra l'altro perché hai dato proprio la risposta perché io avevo detto tutto il contrario non sapendo chiaramente che Pasquale Schiattarella aveva in un certo qual modo chiesto il cambio. Avevo detto forse a questo punto meglio rischiare. Tanto ci sono tanti infortuni, un ulteriore giocatore ma scacciare via la crisi con una vittoria. Perché la vittoria sembra più importante ora del singolo da preservare in campo. La vittoria è fondamentale perché per quello che stanno facendo loro, per lo sforzo che sta facendo questa squadra di ritornare a lavorare come squadra, sia in possesso che non possesso, lo sforzo è enorme. Per questo era una vittoria che serviva soprattutto ai giocatori perché devono continuare a fare quello che stanno facendo, devono continuare a interpretare le partite come stanno facendo. Certo, su certe situazioni ci vuole un po' più di cazzimma. L'abbiamo detta alla napoletana. Studio. Buonasera e ben trovato mister. Troppo brutto per essere vero il Benevento nel secondo tempo. Perché nel primo tempo, lo abbiamo detto anche con Sonia, con il collega Villinuzzo Lillo, i calciatori hanno fatto quello che lei chiede da quando è arrivato. Raddoppi sistematici, fraseggi, attacchi con tanti uomini. Sì, al sesto del primo tempo, un'azione spettacolare sull'asse Schiattarella-Teio e Lagumina ha sbagliato il gol, ma poi si è rifatto alla grande. Nella ripresa davvero troppo brutti, lavorare sull'aspetto mentale lo sottolineava anche Karic. Guardarsi in faccia, non piangersi addosso perché siamo consapevoli delle nostre potenzialità. Al netto di tutte le difficoltà, vedi gli infortuni che stanno capitando davvero a Iosa. No, ma gli infortuni per me non devono essere un alibi perché io devo tirare fuori il meglio di quelli che ho a disposizione. Io l'ho sempre detto e poi quando arriveranno quelli che sono fuori sicuramente ci daranno una mano anche nella gestione delle partite. Però il ramarico è proprio quello che tu oggi hai dominato, forse è una delle migliori squadre che ci sono in Serie B con tutte le difficoltà che hai, però li hai dominati, li hai messi in difficoltà e vanno a casa sicuramente con un regalo, un regalo che gli abbiamo fatto noi perché diciamo che i gol che gli abbiamo concesso sono regali. Assolutamente sì, Billy? Mister, buonasera. Innanzitutto complimenti per la sua onestà intellettuale. Lei peli sulla lingua non ne ha. Quando deve dire qualcosa, a differenza di tanti protagonisti del mondo del calcio, lo dice in maniera evidente e senza problemi. Detto ciò, la cosa che mi colpisce, che sembra un paradosso, che una squadra allenata da un personaggio come lei che da calciatore faceva della forza mentale, della grinta, uno dei suoi punti di forza, oggi non riesce a recepire da lei questi aspetti. Come se lo spiega? Ma è sicuramente un aspetto dove io cerco di lavorare molto, però io poi dobbiamo essere anche, ecco, io sono onesto e quando vado ad analizzare la mia formazione ci sono giocatori che prima magari giocavano molto meno, che hanno 45 minuti nelle gambe dall'inizio del campionato. Sono giocatori che magari in altre situazioni erano seduti in panchina e che mi stanno dando tanto e per questo io li ringrazio. Ma proprio per questo questa vittoria serviva per dare ancora di più la forza a questi giocatori che stanno interpretando nel migliore dei modi. una situazione difficile, ma questo, ripeto, non è un alibi, ma deve essere uno stimolo per tutti quanti per far bene. Io sono un ex difensore, ma sicuramente spero che la mia squadra abbia sempre un atteggiamento positivo in campo e non magari quello di, ecco, di essere brutti magari in alcune situazioni. Però l'ideale per me è essere belli ed efficienti. Sonia? Eh sì, ne approfittiamo per capire infortuni e tempi di recupero. Allora, prima di tutto partiamo da te. Io ho avuto qualche problemino, perciò è uscito? Mi ha detto che ha risentito lo stesso punto dell'altra volta. Viviani? Non lo so. Simi a Campora ancora presto? Simi a Campora, hanno due contratture, spero di recuperarli questa settimana. Perfetto. Ringraziamo Fabio Cannavalo.